Eccolo qui, eccolo qui, no, nessun problema, andiamo, beh il salto non era male assolutamente, però nullo di quei 3, 4, 5 centimetri, anche dal punto di vista della tecnica, andiamolo, ancora più o meno lì, un salto di salti per tutti in questo momento, Dwight Phillips davanti con 8,53, misura da Saladino, non so se da quello di quest'anno, no, nullo, ai, 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 situazione, anche dal punto di vista della tecnica, andiamolo, ancora più o meno lì, è stato subito un salto più che discreto, nella stagnazione di questa specialità, attenzione, salto valido dovrebbe essersi, è più in là, Frantumato il vecchio record di Pisa, Lucca, Firenze, sono 60,73 in linea d'aria, grande! Ma ci esci da coglioni, balordo! Ci vedo, ci vedo il mezzo, il cane di rode! Ma pacca a Dio buono, che è 100 gradi, mi tocca sempre, mi fate cene, cane di rode! Iondina, esci dalle balline, dai! Brava, questo è il regalo! Eh, eh, ecco gli stronzi, eh oh, ti pareva!